E infine siete esentati dall'alzarvi in piedi per la standing ovescio a Gianni Mura. Non si può andare avanti. In realtà noi vorremmo qui, attraverso il vostro contributo, riuscire a dimostrare che si può continuare a giocare a calcio anche senza correre e senza spiatarsi. Questa è la presentazione nazionale organizzata dall'UISP con il concorso della collaborazione del calcio nazionale UISP, le politiche nazionali e via dicendo. Oggi presenteremo le motivazioni che spingono l'UISP a questa iniziativa. E come dicevo prima è aprire la possibilità e la disponibilità per tutti di continuare a giocare a calcio anche se può sembrare che senza correre non lo si possa fare. E' il famoso vento del nord che un po' ci spinge da qualche anno e io ne approfitto dell'occasione perché siccome quest'idea noi la mutuiamo dall'Inditerra, la UISP negli anni 90 ha fatto un congresso. In quel congresso ha deciso di mantenere il proprio acronimo ma di cominciare a parlare anche in Italia, nel nostro paese, di sport per tutti. Il dinamismo spinto. E quindi ho sempre parlato in termini calcio-gastronomici di fast food e slow food. Questo per me è slow food che più slow non si può e quindi io aderisco a tutto quello che rallenta. In pratica oggi vedrai che sarà una bella cosa. Lo scopriremo, lo scopriremo vivendo. Sì, lasciamo tutti qua. Dopo ti diremo quali sono le situazioni. Oggi e adesso non ti suggerisco perché non l'ho mai fatta. Un'idea venuta dal nord. Anche tu vieni dal nord, no? Sei friulano. Certo. Piano, piano. 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 Bravissimi. Finisce in imparità. Esibizione veramente continua. Io personalmente ero curioso di vedere come si sarebbe sviluppata la situazione e devo dire che è un gioco che si può fare. Piano, piano. Piano, piano. Piano, piano. Piano, piano. Piano, piano.